Buonasera amici e amiche e amanti della palla a mano, benvenuti in via del tutto eccezionale da Borgo San Lorenzo, qui in diretta su Eleven Sport per la ventunesima giornata di campionato di Serie A Beretto, ovvero la sesta per quanto riguarda il girone di ritorno che vedrà scendere in campo in questo momento la formazione di casa, ovvero la Ego Handball Siena contro Banca Popolare Fondi. Per il turno infrasettimanale una partita importante per quanto riguarda i bianconeri dal punto di vista del morale, visto che arrivano da una bruciante sconfitta sabato scorso in casa contro l'Alperia Merano per 35-31, dall'altra parte invece Fondi cercherà di continuare la scia positiva iniziata sabato in casa del Trieste dove si sono imposti per 25-24, giocherà quindi per la salvezza, dall'altra parte invece Branko Dumnic cercherà di scrollare di dosso dai suoi ragazzi il malessere anche fisiologico dovuto alla sconfitta di sabato scorso a causa della quale la Ego Siena dovrà in qualche modo dire addio al sogno tricolore, però come ha detto in settimana anche lo stesso tecnico Montenegrino è importante mantenere alto il morale della squadra, provare a vincere a tutti i costi e arrivare anche al secondo posto, perché ricordiamo insomma Sassari è lì a più 4, quindi assolutamente fattibile la partita di andata tra Fondi e Ego Siena è terminata a favore dei senesi per 33-29. Intanto ricordo che sugli altri campi giocheranno Bolzano contro Brixen, Pressano contro Trieste, Pan contro Alperia Merano, rinviati Fassano e Conversano, Molteno e Cingoli, invece hanno già giocato Cassano Magnago e Raymond Sassari, hanno vinto Yamaranto per 29-27. Non faccio in tempo a darvi la formazione perché abbiamo avuto anche dei problemi di regia inizialmente, quindi diamo spazio al campo perché la partita è praticamente iniziata. L'attacco, il primo attacco per Fondi, il giro palla dei laziali con il numero 24 Ponticella. Passaggio per Mata, ancora Mata, Vulic, non c'è spazio, la difesa del Siena copre bene, quindi si ricomincia qui il passaggio per cercare il pivot Ponticella, che però il tiro va a finire su Giovanni Pavani che non si fa trovare impreparato. Ancora Fondi in elevazione per Marquez, ancora Giovanni Pavani la parata con il piede destro, può partire Siena per la prima fase di attacco. Filippo Passini in posizione da centrale, come sapete tutti l'Ego ha salutato la scorsa settimana l'Italo-Uroguaiano, Pablo Marrocchi, quindi la squadra si deve in qualche modo reinventarsi. Casa, Passini e poi dall'altra parte Filippo Gaeta, si fa vedere il pivot Raul Bargelli, l'incrocio, poi Gaeta, Passini, Casa. Per Stefano Arceri che in elevazione il tiro del numero 18 dell'ala sinistra della Ego Handbolsena apre le marcature 1-0 per la Ego Handbolsena. Dall'altra parte la risposta immediata dell'ala del Fondi con il numero 14 Zanghirati. Uno pari per le due formazioni, il tiro in elevazione finito però sul fondo di Krejnik-Kasha. Ancora 1-1. Dall'altra parte subito Fondi perde però il pallone, comunicazione sbagliata con il pivot e quindi può partire in contropiede Stefano Arceri. La rete ancora del numero 18. Matà, ancora Giovanni Pavani sul tiro di Matà, ci mette il piede, niente da fare. Con calma riparte il Fondi, può gestire meglio la fase di attacco. Si riparte quindi ancora da Matà, Vulic. Crocio per Vulic, Matà, Marquez spintonato da Umberto Bronzo che riesce a recuperare il pallone di forza, di prepotenza, il contropiede di Umberto Bronzo. segna il vantaggio, 3-1 per Siena e poi la risposta quasi immediata di Vulic per 3-2. Ancora Siena a casa per Felipe Gaeta. Dai 9 metri per Laego Siena che può ripartire. Casa, Bargelli. Casa. Gaeta a casa. Incrocio con Bargelli. Passini, centrale, salta e nell'avazzo nel tiro per il passaggio per Felipe Gaeta che però termina sulle mani del portiere di Fondi. Voljuvac. Ci riprova Filippo Pasini ma ancora pronto Voljuvac chiude, serra le mani davanti alla faccia, non fa passare. Ancora Siena, ancora Umberto Bronzo sotto le gambe del portiere. Questa volta il pallone entra, 4-2 per Laego Handball Siena. Niente da fare per Fondi. Fischiato il fallo da parte del portiere quindi niente da fare anche qui per casa che sbaglia il passaggio per Passini ma c'era fallo in difesa e quindi Siena può ripartire con tranquillità. Casa. Passini. Ancora Casa. Esce Bargelli e poi Felipe Gaeta allo scarico per Filippo Passini e poi casa il tiro. Aveva capito la direzione Voljuvac ma non c'è arrivato lo stesso quindi ancora 5-2 più 3 per i padroni di casa. Massimo vantaggio fino a questo momento. Matà. Vulic. Ancora Vulic per Marquez esce Cascone. Vulic. Vulic. Marchez in posizione centrale. Ancora Giovanni Pavani. Ottima prestazione del portiere senese. Attacca ancora la Ego and Bolsiena. Casa. Filippo Passini. Il giro palla dei bianconeri. Ancora esce Bargelli. Passini si accentra. Prova a trovare uno spazio. Fa muovere la difesa del fondo. Lo scambio con Felipe Gaeta e poi lo scarico. dietro le spalle per Stefano Arceri. 6-2. Terza rete per il numero 18 del Siena. E qui c'è stato un momento di confusione per Felipe Gaeta. Dall'altra parte subito riparte il Siena ma Nico Casa ha un tiro forte. Una bomba di Nico Casa che però finisce sulla traversa. Quindi niente da fare per lui. Ancora Fondi. Vulic. Rallenta il Fondi. Ha visto che non riusciva a trovare spazio. Si placano i ritmi di gioco. Matà. Marquez. Che lotta con Nico Casa. Quest'ultimo però. Non fa passare. Il numero 66 del Fondi. Classe 1990. Originario dell'Argentina. Marquez. E qui il... Stefano Arceri intercetta il pallone. Ancora Matà. Vulic. Matà in elevazione. Ancora Giovanni Pavani. Un'altra parata. Che salva la Eguen Bolsiena. Rimane in vantaggio. 6 a 2. Un inizio sicuramente più che positivo per i padroni di casa che hanno tutta la voglia di riscattarsi dalle ultime partite, dall'ultima maggior ragione giocata pochi giorni fa. Ancora Filippo Passini trova un pertugio nella difesa del Fondi. e il sottomano inganna. Voljuvac. 7 a 2. Riprende fiato il Fondi a meno 5 dalla Ego Siena. Un vantaggio insomma che sta costruendo un vantaggio importante. Intanto è entrato Cascone. Arriva il cartellino giallo per Cristian Guggino. Quindi può ripartire da 9 metri Fondi. Matà. Vulic. Lo scarico per Marquez che si gira. Poi deve costretto a ridare il pallone a Vulic. C'è ancora lui il passaggio per Ponticelli. Ma ancora una volta sempre lui. Giovanni Pavani dice no. Passini si accentra. Prova ad entrare in aria. E qui c'è un altro cartellino giallo. è un tiro dai 7 metri per la Ego Siena che si guadagna Stefano Arceri. Murato però da Voljuvac di prepotenza, di fisico. Ci mette tutto il fisico Voljuvac. Ancora 7 a 2. Matà. Vulic. Ancora Matà. La comunicazione fra i due. Esce Ponticella. in elevazione Marquez, l'argentino, ma ancora nulla da fare. Prende male le misure e quindi può ripartire Siena con Caccia che lotta e poi lo scarico per Felipe Gaeta che finisce però terribilmente sul fondo il tiro del capitano. Nulla di fatto. Ancora Vulic. Ancora Giovanni Pavani che para il tiro di Vulice che aveva trovato un pertugio nella difesa del Siena e quindi può ripartire la Ego ha provato il passaggio per il pivot Cristian Gugino ma è stato intercettato e quindi ancora Fondi qui il sfondamento di Marquez costringe a ritornare dall'altra parte della metà campo in questi momenti piuttosto concitati e cambi repentini. Con calma Siena riparte non c'è motivo di affrettarsi soprattutto sul più 5 quindi è giusto che mantenga la calma la concentrazione e la lucidità. Ancora Caccia per Gaeta Caccia poi l'incrocio con Arcieri in posizione di centrale bloccato anzi placcato sarei dire poi Gaeta per casa ancora Gaeta ma niente da fare i due hanno comunicato male quindi il contropiede per il Fondi che va a finire però male per il numero 14 Zanghirati era da solo contro il portiere ancora 7 a 2 nel frattempo è entrato Nikocevic tra le file della Ego Siena ed è proprio lui il passaggio per Romberto Bronzo poi Bargelli ma ancora la traversa la traversa nemica Fondi dall'ala ecco il gol che voleva prima il numero 14 Zanghirati 7 a 3 torna a segnare il Fondi dopo lunghi minuti di digiuno Passini per Nikocevic Passini Gaeta dialogano i terzini del Siena Gaeta prova a far aprire la difesa poi il tiro di Nikocevic che però finisce sul palo Vulic per Marquez in velocità lo scambio tra i due la finta a richiamare l'ala ma Umberto Bronzo si oppone il time out di Jacinto De Santis ci costringe a fare qualche minuto di pausa anche per noi eccoci qui 7 a 3 per i padroni di casa che stanno conducendo una partita ma siamo ancora all'inizio so che da casa non riuscite a vedere il punteggio né tantomeno i minuti dovrebbero essere passati 14 minuti di gioco 7 a 3 appunto tra la Eguen Volsiena e la Banca Popolare di Fondi si riparte con gli avversari con Fondi in fase di attacco il time out è stato di Jacinto De Santis che ha richiamato i suoi ovviamente sul ancora sul più 5 sul più 4 è sicuramente un vantaggio importante quindi avrà cercato di scuotere la sua formazione che ha fatto non pochi errori soprattutto in attacco quindi si può ripartire Matà Vulic lo scambio e poi ancora Matà per Marquez e poi sempre lui il numero 6 Di Benedetto inganna Giovanni Pavani entrato subito ha fatto gol casa con Passini casa con calma esce poi Guggino rientra Raul Bargelli Passini casa difesa 5-1 per Fondi Gaeta Gaeta lo scarico poi per Umberto Bronzo e poi ancora Gaeta in elevazione la finta il tiro di Nico casa e la parata di Voljuvac e poi Matà per Vulic bloccato ancora da Umberto Bronzo sta facendo sicuramente un'ottima difesa Matà Matà per Di Benedetto centrale Vulic si accentra Matà Di Benedetto la finta poi per Vulic il passaggio si fa vedere Ponticella e poi ancora lo sfondamento chiamato però a Di Benedetto e la il contropiede positivo di Stefano Arceri riporta il Siena a più 4 la caduta in area di Cascone l'arbitro però dice che non c'è fallo chiama ad asciugare il parquet si può ripartire con Vulic Matà Vulic lo scambio con Di Benedetto e poi Vulic che salva una palla che poteva andare a finire fuori dal campo il contropiede ancora di Siena ancora di Stefano Arceri l'errore nella difesa del Fondi Arceri non perdona 9 a 4 più 5 a Ego Siena ancora Vulic Di Benedetto Vulic Matà Di Benedetto litiga con il pallone poi però riesce a tenerlo nelle mani va a cercare Cascone alla difesa del Siena c'è e risponde presente Di Benedetto ancora Di Benedetto in elevazione 9 a 5 Giovanni Pavani neanche prova ad arrivarci Passini per Casa Gaeta poi Passini prova lo scarico e poi Casa va a cercare Bargelli il passaggio fortuito per Umberto Bronzo che non si fa trovare impreparato 10 a 5 Volivac beffato dall'ala così come viene beffato subito dopo anche Pavani 10 a 6 tra la Ego Handbol Siena e Banca Popolare di Fondi casa Gaeta ancora casa Nikoccevic che era in posizione di Alasini alla destra scusate Nikoccevic ancora lui per casa Filippo Passini lo scarico per Stefano Arceri però il passaggio sbagliato fa ripartire Fondi con molta calma ora i laziali a gestire questo pallone e questo attacco che assolutamente non possono sbagliare Di Benedetto Matà esce Cascone esce anche Ponticella doppio pivot per Fondi e poi il Matà che va a cercare Pennacchio intanto è arrivato un cartellino giallo per se non sbaglio Stefano Arceri Vulic entra in aria ma Pavani dice ancora una volta no la palla è il possesso palla è ancora di Banca Popolare Fondi sempre Di Benedetto prima la finta e poi in elevazione 10 a 7 meno 3 recupera Banca Popolare di Fondi aiutato anche dal palo che va ad opporsi tra Filippo Passini e Laporta con un break di 0 a 2 di Fondi si porta meno 3 è ancora in vita quindi la squadra laziale che si fa sentire qui intanto il placcaggio di Stefano Arceri su arena ancora lui Vulic e poi lo tiro sbagliato completamente sbagliato di di Benedetto Passini Arceri con calma la Ego si avvicina alla fase di attacco Gaeta Casa Passini ancora Gaeta Casa esce Bargelli Gaeta Passini lo scarico per Gaeta che ha rischiato di perdere il pallone poi casa ancora Gaeta e poi il tiro a cercare Bargelli il fallo su di lui e il cartellino giallo ad arena dai 7 metri va invece Bozidar Nikosevic è la rete del numero 19 riporta il Sena 11 a 7 può ripartire fondi con arena sotto le gambe di Giovanni Pavani inizio molto positivo per Luigi Arena il terzino classe 2003 entrato da pochi minuti e già ha segnato due gol Nikosevic casa Nikosevic per Felipe Gaeta e poi ancora casa in elevazione Voliovac però ci mette il piede in velocità il Fondi riparte però Di Benedetto scivola sul campo quindi deve rallentare il Fondi Arena Vulic Di Benedetto Vulic Arena esce Ponticella e poi ancora Di Benedetto il passaggio un po' rischioso per Vulic ancora Vulic si accentra il tiro e le mani di Giovanni Pavani parano il tiro di Vulic riparte Siena con Nikosevic casa e poi Umberto Bronzo che prova a far aprire la difesa del Fondi dai nove metri ancora Siena Nikosevic lo scambio con Bargelli casa Gaeta si accentra il tiro di Capitan Gaeta non entra anche stavolta intanto il pallone Fondi aveva recuperato ma poi l'ha buttato sul fondo quindi è ancora Siena 11 a 8 23 minuti casa Nikosevic casa Gaeta lo scarico per cercare Nikosevic Arena però aveva intercettato gli arbitri però hanno visto un fallo di Ponticella e gli danno due minuti per lui chiacchierano intanto il numero 19 il numero 10 bianconeri però è tutto rimandato perché Branko Dumni ci chiama il time out e quindi ci prendiamo anche pochi secondi di pausa anche per noi un po' 11 a 8 segna il tabellone in fondo 24 minuti se la vista non mi inganna un vantaggio importante per la Ego Siena che deve cercare assolutamente di non di non perdere si ritorna in fase di attacco per i bianconeri un uomo in più in campo per Fondi ricordiamo che Ponticella si è preso i due minuti quindi in inferiorità numerica ora Fondi Nikocevic per casa il tiro per Umberto Bronze poi il passaggio per Gaeta e poi la finta di Nikocevic però ha confuso evidentemente anche casa perché nulla di fatto non è andata a buon fine questa giocata per i bianconeri ancora 11 a 8 pochi minuti alla fine del primo tempo riparte Fondi con Arena sempre di Benedetto Vulic esce Cascone il passaggio per l'ala Pennacchio e poi ancora Arena Vulic il pallone torna nelle mani dei terzini Vulic Arena bloccato però da Stefano Arcieri l'arbitro ha visto un fallo di Raul Bargelli due minuti per il pivot bianconero quindi ora parti invertite Siena a giocare in inferiorità numerica Arena Vulic di Benedetto sempre Vulic l'incrocio con Pennacchio e poi Arena e poi ancora di Benedetto il passaggio per l'ala per Pennacchio dall'altra parte ancora Vulic di Benedetto Vulic che prova e scusate Arena prova ad entrare in aria questa volta il fallo e altri due minuti per Umberto Bronzo la difesa del Siena ridotta sempre di più all'osso deve difendere in quattro ora l'Aego impresa sicuramente difficile per i ragazzi di Dumic riparte Fondi ancora Arena con Vulic poi di Benedetto Vulic esce intanto Licocevic qui c'è l'errore l'ingemità di Arena che seppur in superiorità doppia numerica commette fallo in attacco quindi sfondamento e Sena se la cava così può tranquillamente tornare in fase d'attacco frattempo rientra Filippo Passini Licocevic casa Filippo Passini però lo sbaglio non riesce a mantenere il pallone in campo e quindi anche qui Siena spreca una possibilità come prima il Fondi l'ha sprecata in attacco ancora due minuti per questa volta Felipe Gaeta e Siena difende in tre sempre meno sempre più ridotta la difesa del Siena sembra piuttosto improbabile che si possa replicare l'azione di prima e quindi Arena il passaggio poi per l'ala e dall'altra parte il gol di Miceli dall'ala può farci ben poco Giovanni Pavani 11 a 9 recupera il Fondi a meno due intanto Arceri in posizione di terzino niente da fare però Voljuvac dice di no al tiro in elevazione del numero 18 ancora difesa a tre per i ragazzi di Dumnic quindi Fondi può e riesce a portarsi a meno uno un break importante aiutato anche dalle assenze in campo dovute ai vari due minuti alle sfilze di due minuti che gli arbitri hanno concesso alla Ego Siena che a poco a poco sta recuperando giocatori ora si gioca in quattro casa di Kocevic Guggino come ala sbaglia Cristian Guggino becca il palo il secondo palo 11 a 9 ancora a Fondi di Benedetto in elevazione il tiro va a trovare il pareggio il numero 6 gol importante della centrale del Fondi 11 pari Siena ha concesso forse troppo agli avversari ancora una volta rinuncia alla superiorità che aveva prima e quindi 11 pari si riapre la partita e bisogna ricominciare tutto da capo intanto la parata di Voljovac su Nikocevic dice che il Fondi è in partita c'è risponde presente da anche del filo da torcere ai bianconeri che forse sul più 5 avevano già iniziato a cullarsi cascone arena sempre arena che riesce di forza ad entrare in aria ma il tiro era troppo facile per giovani pavani può ripartire siena casa bargelli ristabilita l'equilibrio numerico passini per casa tiro troppo lungo ancora un altro errore del numero 9 bianconero e ancora un pallone regalato agli avversari opportunità importante per il Fondi che con questa fase di attacco ha la possibilità di andare in vantaggio sarebbe il primo vantaggio dei Laziali arena Vulic il passaggio per Pennacchio però che non riesce a passare poi qui il il fallo lo scontro tra Vulic Filippo Passini due minuti per lui siena colleziona due minuti non sarà sicuramente contento Branko Dumnic e Fondi guadagna un sette metri che batterà di Benedetto niente da fare finisce sul fondo il tiro di Benedetto e con esso anche la possibilità del vantaggio del Fondi 11 pari finisce così il primo tempo la prima mezz'ora di un match che aveva visto fino a pochi minuti fa un netto vantaggio del dei padroni di casa della Ego Handball Siena arrivate addirittura più cinque però eh un vantaggio al quale ha diciamo dovuto rinunciare sia per degli errori di concentrazione che eh sbagli passaggi eh sbagliati sia anche per la fisiologica diciamo inferiorità numerica che ha visto eh il Siena difendere in quattro addirittura in tre quindi il Fondi approfittare della situazione per recuperare quindi eh prima mezz'ora finisce così in totale equilibrio quando invece si pensava che eh non dovesse essere così almeno per i primi eh venti minuti della partita vedremo cosa succederà nella seconda mezz'ora che sicuramente ci regalerà tante sorprese grazie a tutti 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 opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica grazie allo sviluppo e all'ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci il gruppo vispederi garanzia di qualità per i propri clienti offre servizi che spaziano dall'esecuzione di studi clinici alla ricerca avanzata dalla consulenza ed analisi su alimenti superfici di lavoro acque ed ambiente alla stesura di piani hccp e all'effettuazione di test per il rilevamento del virus sars cov 2 su qualsiasi tipo di superficie e struttura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa siamo da sempre al vostro fianco al fianco di ogni imprenditore di ogni famiglia che cresce finanziando i vostri progetti le vostre idee facendo crescere i vostri risparmi custoditi in una solida banca banca popolare di fondi dal 1891 vicina per tradizione attenta per scelta grazie a tutti leader nella fornitura di tecnologie post raccolta da 30 anni sul mercato offrendo consulenza progettazione installazione e installazione e assistenza tecnica saim la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi imballaggi fidaleo il punto di riferimento per imballaggi in legno plastica cartone la nostra produzione è totalmente ecosostenibile imballaggi fidaleo dal 1963 al servizio del cliente imballaggi fidaleo via appia fondi alla prossima 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 eccoci ben tornati ben ritrovati qui in diretta sempre su 11 sport per chi si fosse collegato con noi solo adesso Adesso stiamo per andare a vedere la seconda mezz'ora del match tra la Ego Handball Siena e Banca Popolare di Fondi, una partita che sembrava dovesse andare per inerzia, invece ora si è dimostrata negli ultimi minuti di gioco molto ricca di avvenimenti e di sorprese. Siena era in vantaggio nei primi dieci minuti di gara di cinque reti, un vantaggio sicuramente importante che però l'Ego non è riuscita per una serie di sfortunati eventi a mantenere. Mentre dall'altra parte il Fondi è stato bravo a recuperare e quindi si è terminata in un perfetto equilibrio il primo tempo, undici pari. Ecco il fischio d'inizio per questa seconda mezz'ora, possesso palla per il Siena. Licocevic, Gaeta Bargelli Può ripartire Fondi per la palla dell'avvantaggio, l'errore però di comunicazione. Con Miceli Niente da fare, ancora Siena Bronzo Gaeta Casa Gaeta che può L'Ego Siena può recuperare e può diciamo riprendersi in mano il vantaggio Lasciato negli ultimi dieci minuti del primo tempo e poi casa Bronzo Gaeta Bloccato Da Cascone Casa Gaeta Casa in elevazione Trova le gambe di Voluvac Prova a rubare palla a Bronzo ma non ce la fa e quindi Fondi può ripartire Arena Ancora Arena che la finta e beffa Umberto Bronzo Il gol del primo vantaggio di Banca Popolare Fondi è firmata da Piero Di Benedetto, scusate da Arena Luigi Arena, terzino classe 2003 Fondi in vantaggio, 11-12 Esce Bargelli, Nikocevic in velocità, poi lo scarico per Gaeta ancora a casa che prova ad entrare ma Siena In contra Arena Il fallo sul numero dieci del bianconero Intanto l'arbitro chiama ad asciugare il parquet Siena si prepara a tirare il tiro dai sette metri che spetterà a Bozidar Nikocevic Ecco Bozidar dai sette metri contro Voluvac Il tiro, la finta e poi il gol del numero 19 Riporta in pareggio la Ego Siena Arena Viceli Arena Di Benedetto Ancora Di Benedetto si accentra Matà E poi il passaggio tra Arena e Ponticella Ma Arena in qualche modo riesce a recuperare il pallone Arena Arena Matà Sempre Arena esce Ponticella Arena Esce intanto Umberto Bronzo che non ferma però il numero 11 Prova ad andare al tiro Il fallo poi su di lui Il tiro dei sette metri guadagnato dal fondi Che andrà A battere il numero 44 Ivan Vulic Contro Giovanni Pavani Il gol di Ivan Vulic 12 a 13 fondi nuovamente in vantaggio Pollone in mano ad Arceri Poi casa Nikocevic Gaeta Casa Che guarda Arceri Poi passa la palla A Nikocevic Esce intanto Bargelli Esce anche Stefano Arceri Casa Per Nikocevic Un passaggio rischioso Il Montenegrino riesce a mantenere il pallone nelle mani Poi il sottomano Ma Voljovac si abbassa Aveva capito tutto Quindi ancora niente da fare Siena un po' in difficoltà Ora fondi e la possibilità di andare sul più due Miceli per Di Benedetto Lo scarico per Matà Poi ancora il passaggio per Arena Che va a cercare il pivot Fermato però da Guggino E Niko Casa Arena Di Benedetto Riparte il fondi Il passaggio sbagliato Ancora una volta con Miceli Permette all'Aego di ripartire Lo fa con calma Il capitano Gaeta Che intanto dialoga Ne approfitta per parlare con Nikocevic Nikocevic Casa Nikocevic Esce Stefano Arceri Esce anche Raul Bargelli Doppio pivot Per l'Aego Siena Nikocevic Bloccato da Pennacchio Riparte Entra intanto Anche Umberto Bronzo Casa Esce Arceri Che si accentra L'Ala Sinistra del Siena E poi il passaggio per Umberto Bronzo Che va al tiro Ma non riesce Nel frattempo due minuti Per Luigi Arena Fondi in inferiorità numerica Ma in fase di attacco Si riparte Da Zanghirati Di Benedetto Mata Vulic Zanghirati Di Benedetto ancora Mata Esce Ponticella Mata Intanto Arceri Esce su Mata E poi il passaggio Con Tra Vulic e Zanghirati Vulic bloccato Da Cristian Gugino Ponticella Di Benedetto Ponticella Vulic Ancora Di Benedetto Si accentra Il passaggio Per Vulic Che prende Involontariamente Da casa Una manata Nel muso Quindi nove metri Per Fondi Ancora Sempre Vulic Il passaggio per il pivot Ponticella Che però Schiaccia il pallone Sul corpo di Giovanni Pavani Può ripartire Siena Può ripartire Siena Deve ripartire Siena Gaeta Lo scarico per Umberto Bronzo Si alza il tiro 13 pari Per il Siena Che riaggancia Il fondi Ancora in equilibrio Le due Formazioni Quando sono passati Circa sette minuti Di questo secondo tempo Sicuramente più Combattuto Rispetto ai primi dieci Della prima mezz'ora Ponticella Vulic Di Benedetto Si accentra La sfida Con Nico Casio Intanto Matà Bloccato da Nikocic Sempre lui Che blocca invece Vulic Difesa molto alta Del Siena Vulic Di Benedetto Esce intanto Gugino Il passaggio di Vulic A cercare L'ala sinistra La palla va fuori Quindi rimane ancora Il possesso palla In mano del Fondi Pallone Zangherati Schiacciato direttamente Sul piede Di Felipe Gaeta Che l'arbitro Richiama Vulic Il passaggio Per Ponticella Il tiro Giovanni Pavani Non può farci nulla 13 a 14 Aveva bloccata La visuale Non vede il tiro Il pallonetto Di Ponticella Che finisce Direttamente Sopra la testa Del portiere Senese Nikocic Sempre Nikocic Poi Gaeta Lo scarico Per Niko Casa Che litiga Col pallone Ma riesce A tenerlo in mano Poi però Bloccato da Ponticella Siena Deve ripartire Nikocic Va a cercare E trova Bargelli Che viene Placcato Si scontra Con Arena Ancora Siena Nikocic Gaeta Il tiro Sul secondo palo E la rete Del capitano Gaeta 14 pari Riporta in pareggio La sua Siena Nella prima rete Del numero 20 Di Benedetto Vulic Ancora Mata Di Benedetto Vulic Si fa vedere Intanto L'ala destra Del Fondi E la rete A beffare Giovanni Pavani 14 a 15 Casa Per Gaeta Il tiro Ha tentato Una girella Ma E poi Ha perso l'equilibrio Ed è caduto Il numero 20 Del Siena Il fallo Su di lui E poi Il tiro Dei 7 metri Battuto Da Bozidar Nikocic Che non sbaglia E non perdona 15 pari Botta e risposta Tra le due Formazioni Fondi Prova a scappare Massiena Ma Siena Insegue E mantiene Sempre lì Di Benedetto Il dialogo Fra i terzini Il giro palla Di Benedetto Per Ancora per Vulic Che difende Nella rete Nella rete Del numero 23 16 pari Come prima Fondi Prova a scappare Siena Dice no Si tiene Stretta Questo pareggio Formazione Formazione Dunnice Dovrà poi A un certo punto Cercare anche Di provare A scappare A sua volta Zanghirati Vulic Di Benedetto Si accentra Il passaggio Poi La difesa Fisica Di Cristian Gugino E Stefano Arceri Su arena E il time out Di coach De Santis Qualche minuto di pausa Anche per noi Dice no 16 pari tra la Egon Bolsiena e Banca Popolare di Fondi 12 minuti di gioco le due formazioni in perfetto equilibrio con Bolsiena un po' in difficoltà partito sicuramente più positivo nella prima fase del primo tempo poi un po' calato Fondi ha recuperato ora sta cercando di attaccare e di ribaltare il punteggio lo stesso palla infatti per i laziali di coach De Santis con Arena si accentra Bulic Bulic il passaggio per Arena bloccato però da Umberto Bronzo non si passa Arceri è anche uscito per una difesa un po' più cattiva stessa cosa Umberto Bronzo difende bene Siena Bulic cascone ancora Bulic per Arena il passaggio per Bulic sul muro di Stefano Arceri pennacchio per il giro di Ponticella cascone intanto Bulic prova ad entrare in area il pallone però finisce nelle mani di Felipe Gaeta e quindi può ripartire Siena in velocità con Stefano Arceri che si accentra il passaggio poi per Gaeta intercettato però da Bulic Fondi recupera il pallone quindi si ricomincia dall'altra parte però del campo con Arena ci sarebbe Siena vorrebbe il fallo di Arena su Umberto Bronzo ma non c'è l'arbitro dice che non c'è quindi 16 a 17 Fondi nuovamente in vantaggio Gaeta Caccia Nikocevic Nikocevic ancora Gaeta Nikocevic il passaggio per Umberto Bronzo che fa la finta si alza poi il passaggio per Nico Caccia il tiro di Stefano Arceri Niente da fare per i bianconeri un'altra azione d'attacco finita male ma ancora un altro tiro dai 7 metri guadagnato per la Ego Siena a tirare sempre lui Bozidar Nikocevic questa volta però sbaglia va a finire sul fondo sorride Voljovac 16 a 17 ancora Fondi in vantaggio più uno Vulic il giro di Ponticella poi Cascone per Arena che prova a farsi spazio tra la difesa Arena Cascone Arena sempre Vulic Cascone per Vulic Ponticella intanto Stefano Arceri è riuscito prova a intercettare la palla ci riesce ma non riesce nel suo intento ovvero quella di rubarla quindi la palla ancora per Fondi Arena Cascone sempre Arena che si avvicina alla difesa poi il passaggio per Vulic il tiro e la rete Ivan Vulic più due per il maggior vantaggio del Fondi fino a questo momento dall'altra parte prova a rispondere Niko Kaccia ma Voljovac ancora una volta dice no 16-18 e ancora Fondi in fase di attacco quindi un'opportunità veramente ghiotta per gli avversari per gli ospiti anche se non stiamo giocando a Siena Matà per Cascone si accentra Vulic lo scarico e il tiro e la rete del numero 17 Nestor Pennacchio Fondi più tre inizia a costruire il vantaggio e infatti Branko Dunic preoccupato per non dire altro chiama il time out pausa anche per noi di ... D ... lo stava cercando da tempo e lo ha trovato fondi in vantaggio più 3 16 a 19 il primo quarto d'ora è andato e ha ribaltato il risultato del primo tempo con un parziale di 3 reti fondi ora in vantaggio di 16 a 19 Siena in difficoltà deve assolutamente rivitalizzarsi bronzo Gaeta, Nikocevic Nikocevic, Gaeta ancora Nikocevic, Kasa bloccato Niko Kasa in maniera irregolare dice l'arbitro e quindi ancora Siena Kasa lo scarico per Nikocevic si fa vedere Arcieri Nikocevic la finta, il tiro e le mani però di Voljuvac dicono di no al Montenegrino quindi ancora fondi con calma organizza il suo attacco Banca Popolare di Fondi con Di Benedetto centrale Bulic marcato a uomo da Umberto Bronzo Bulic si fa vedere Zanghirati che prova il passaggio per Pennacchio ma c'è Giovanni Pavani Gaeta invita alla calma i suoi che possono adesso ripartire Kasa in velocità in elevazione cerca Raul Bargelli che perde però il pallone ancora un'altra azione sprecata per i bianconeri Di Benedetto sempre Bulic marcato a uomo Di Benedetto Matà e poi lo scambio per Pennacchio che però non riesce a trovare uno spazio lo riesce a trovare invece Matà 16-20 più 4 Kasa di forza di prepotenza decide di tirare e trova il gol 17-20 niente da fare per Voluvac quando il numero 10 decide che vuole tirare di forza si va a prendere il tiro e il gol come in questo caso Di Benedetto si accentra poi il passaggio per Matà che prova da far aprire la difesa del Siena sempre Di Benedetto Bulic trattenuto da Alberto Bronzo poi il tiro di Ponticella finisce sulla traversa può ripartire ancora Siena Gaeta Kasa Kasa però il passaggio finisce la palla finisce sotto le gambe di Alberto Bronzo troppi passaggi sbagliati dai bianconeri soprattutto in questa seconda metà seconda metà della partita Di Benedetto Ponticella Di Benedetto perde il pallone anche lui quindi ricambia il favore il fondi e ridona di nuovo il pallone alla Ego Siena ancora Kasa che prova il tiro viene trattenuto ancora a terra il numero dieci si consultano i due arbitri due minuti per Cascone intanto si rialza Niko Kasa si riparte dai nove metri Mancano meno di dieci minuti alla fine Niko Kasa per Crescine in casa Gaeta per Umberto Bronzo dall'ala ancora Voljovac capisce tutto e difende il secondo palo Vulic sempre marcato a uomo da Umberto Bronzo Arena per Di Benedetto ancora Di Benedetto Arena che prova a smarcarsi e riesce a beffare prima Guggino poi Kasa Kasa dall'altra parte il tiro e la rete del numero dieci accorcia le distanze diciotto a ventuno Fuggino su su Arena Bronzo su Vulic difesa alta per il Siena nel frattempo qui Siena chiedeva un fallo in attacco di Pennacchio invece il possesso palla ancora di Fondi il tempo di asciugare il campo e si riparte Fondi in attacco Vulic Di Benedetto Ponticella Di Benedetto che però riesce a trovare un pertugio lasciato vuoto da Kresnik Kasa diciotto a ventidue il frattempo aveva provato ad entrare in area anche Kasa bloccato però dalla difesa di Benedetto ecco il Sena riparte con Gaeta Bronzo raccoglie poi ancora Gaeta che si accentra il tiro di la bomba di la bomba di 19 a 22 Zanghirati di Benedetto non hanno molto spazio i ragazzi di De Santis marcati a uomo dal Siena di Benedetto ancora lui però si scontra con il muro di Felipe Gaeta intanto si è alzato il braccio del passivo quindi deve andare assolutamente al tiro fondi ancora Bronzo su Vulic il pallone è ancora nelle mani di fondi che deve affrettarsi Cascone Vulic il sottomano ma trova il muro di Nico Casa e quindi è facile per Giovanni Pavani recuperare il pallone intanto dall'altra parte Felipe Gaeta poi il passaggio per Nikocevic lo scarico per Nico Casa intanto Gaeta prova ma scivola e poi il fallo di Cascone su Umberto Bronzo che fa letteralmente una capriola in aria rigore per Siena e lo batte il numero 20 Felipe Gaeta a finta il tiro sotto le gambe di Voliovac 20 a 22 Siena recupera lo svantaggio si riporta a meno due mancano sei minuti alla fine del match Di Benedetto Zanghirati tutto solo contro Giovanni Pavani troppo spazio è lasciato a Zanghirati che ne ha approfittato dall'altra parte Nicocevic invece viene bloccato da Matà ancora lui ancora Nicocevic lo scarico per Gaeta poi il passaggio per Caccia e il tiro stessa azione di prima però da parti inverse questa volta il fallo è su Stefano Arceri Caccia si accentra in elevazione il tiro il passaggio per Nicocevic e poi ancora Caccia il tiro trova però i piedi di Voliovac che giustamente esulta il portiere del Fondi può ripartire possono ripartire i laziali Cascone ancora difesa uomo per Siena sempre Cascone Di Benedetto Pennacchio Di Benedetto c'è poco spazio e quindi si ritorna indietro per Pennacchio che però beffa sotto i piedi Giovanni Pavani 20 a 24 un bel vantaggio per i laziali il passaggio rischioso per casa Nicocevic bloccato da Cascone difesa aggressiva del Fonde che giustamente vuole difendere il proprio vantaggio intanto sbaglio errore tra Nicocevic Nicocasa Zanghirati Cascone Di Benedetto esce intanto Nicocasa poi l'elevazione il tiro e la rete del numero 14 Zanghirati più 5 a questo punto Fondi ha letteralmente ribaltato il vantaggio iniziale che prima parteneva a Siena nel primo tempo e ora infatti Dumnic chiama il time out la partita è praticamente nelle mani del Fondi non che vantaggio avivare c'è poco entusiasmo nelle facce della Ego Siena giustamente sotto di cinque reti praticamente improbabile impossibile recuperare per la formazione di Dumnic Gaeta per Nikocevic casa Nikocevic il passaggio per Gaeta ancora Nikocevic si alza poi il tiro per bronzo e poi ancora Gaeta che va a cercare Gugino Gugino per Nikocevic si alza il tiro niente da fare finisce fuori difesa uomo chiama Branko Dumnic e così fanno i suoi Zanghirati la girella però di Zanghirati beffa ancora una volta Giovanni Pavani esulta la panchina del fondi 20 a 26 meno di tre minuti alla fine Nikocevic Arceri Gaeta il tiro in area e il pallone entra e si blocca sulla traversa 21 a 26 meno 5 ma è sempre un gran vantaggio per il fondi intanto De Santis chiama il time out grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ultimi minuti di gioco 21 a 26 per Banca Popolare Fondi la partita è praticamente vinta dai laziali Zanghirati in velocità per Di Benedetto e poi lo scarico per Pennacchio che esulta per un gran bel gol 21 a 27 Nikocevic per Gaeta ancora Voljovac risponde presente manca veramente poco alla sirena finale intanto ancora Fondi in attacco con Di Benedetto Zanghirati Zanghirati tutto da solo la rete di Zanghirati 21 a 28 nel frattempo cambio tra i pali entra Luca Macera classe 2003 Nikocevic Crescini casa Nikocevic Gaeta casa Nikocevic ancora casa in elevazione il tiro e la rete di Crescini casa che però è praticamente inutile visto il punteggio finale ancora un'altra rete di fondi questa volta firma di Cascone 22 a 29 più 7 per i laziali che sono pronti ad esultare la panchina è tutta in piedi Gaeta il tiro e la rete del capitano bianconero lascia comunque poco spazio all'entusiasmo cosa che invece c'è nella panchina appunto di Banca Popolare Fondi finisce qui il match tra la Ego Handball Siena e Banca Popolare di Fondi termina 23 a 29 Siena raccoglie un'altra sconfitta ancora più bruciante di quella che ha raccolto lo scorso sabato all'Alperia Merano era iniziata diversamente sembrava che il Siena potesse uscirne meglio e invece così non è stato sicuramente Branko Dumnic dovrà fare un discorso piuttosto articolato con i suoi dovrà parlarne negli spogliatoi cosa che sicuramente farà perché c'è stata una mancanza di concentrazione e parecchi errori da parte dei bianconeri che hanno buttato via un match dall'altra parte invece Fondi è stata molto brava a recuperare il vantaggio che sembrava incolmabile all'inizio a chiudere il primo tempo in perfetto equilibrio con 11 pari poi a dominare invece il secondo tempo fino al vantaggio del più 5 che è poi diventato un vantaggio enorme del più 6 finale 23 a 29 finisce quindi così noi vi lasciamo con queste immagini di festeggiamenti da parte del Fondi tra pochissimo avremo le interviste a bordo campo di festeggiamenti Grazie a tutti